A distanza di un mese, perché un mese? Perché il 29 settembre avevamo presentato alla scuola media, omaggiato alla scuola media di Fermignano, le borracce, le borracce in alluminio. Adesso il 29, l'abbiamo fatto anche apposta, con il sindaco ci siamo messi d'accordo, facciamolo il 29, così è carino, no? A distanza di un mese. Presentiamo il calendario 2021 Midor, che è stato in cantiere da giugno. Questo calendario, che noi omaggeremo a tutti i nostri clienti diretti e indiretti, e omaggeremo a tutti coloro che verranno a fare acquisti sul nostro punto vendita in via Metauro a Fermignano e a tutti coloro che acquisteranno online sul nostro sito, un calendario o da tavolo o da muro. Verrà prodotto in 15.000 copie in formato da tavolo e 15.000 copie in formato da muro. Perché siamo partiti da Fermignano? Perché volevamo dare una visibilità al nostro territorio, anche perché l'azienda ci tiene a valorizzare il territorio e l'azienda produce da 38 anni sul territorio, in special modo a Fermignano. Quindi siamo partiti dalla città di Fermignano. Ci siamo trovati inaspettatamente questa, diciamo, pressione, questa responsabilità territoriale. Questa responsabilità territoriale perché in questo periodo di improvviso essere invisibile che ha colpito tutto il mondo, nessuno è mai riuscito a fare così tanti danni come questo virus e di conseguenza noi che facciamo igiene siamo stati direttamente coinvolti. Allora abbiamo cercato di risettare velocemente e fare una scaletta delle priorità. Tra le priorità abbiamo visto che alla gente non mancavano gli igienizzanti, ma in particolar modo mancava proprio una vera guida, una vera, diciamo, indicazione di ciò che conta per contrastare al meglio possibile questo virus. e quindi ci siamo adoperati subito per fare informazione sul territorio e ovviamente anche dei prodotti mirati. C'è stato un periodo in cui non si trovavano le materie prime e quindi noi abbiamo subito dato come linea guida delle alternative che bene o male erano tutte trovabili e che avevamo anche facilmente in casa, informando la gente che è fondamentale, è indispensabile lavarsi le mani con dei prodotti alcolici come ci viene richiesto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità o all'Istituto Superiore della Sanità.